buongiorno ragazzi pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video quindi il juventus è tipo forte ma anche il re amadit e però oggi porterò quindi non ho tanto da fare quindi fra poco e marco benintendi è qua da quelle parti quindi amadit ha vinto 4 a 1 juventus 1 e tu sai re amadit 4 quindi qua è prima di e qua era il juventus quindi c'è la palla quale aveva tirato ha cercato di prendere ma è caduto quindi non proprio caduto ma è un tipo di andato in piedi così e poi si è rialzato e poi è andato in gol quindi immaginate questo in gol quindi è un po' strano quindi ecco il mio fratello venne bene ecco dov'era e cioè non ce la faccio a credere che tipo tu sai che ha vinto re amadit se vi ricordate che ricordate ricorredate ok non si non importa perché sono davvero inglese quindi che l'altra volta il ventoso aveva vinto che era un po' invece mostro perché re amadit vi avevo detto che la prossima volta io ero contenta quindi mi vogliono quindi era bellissimo di averti quindi addio e pochi cavoli e benvenuti ciao ciao ciao